Marco Arena, alla guida dell'italian CC Plus Community, C++, eccolo, Coding Gym, ML Molo, Modena, oggi proverà un po' a raccontarvi una cosa che ho un po' sviluppato in questi anni, che è un po' il tema della spontaneità, incredibilmente Marco pensa al community manager come il giardiniere, quindi lui ci spiegherà cosa significa questa cosa e ci accompagnerà un pochino della sua esperienza come community manager e quello che ha anche preso dalle sue tre community quello che ha imparato in questo cammino. Quindi Marco, il palco è tutto tuo, io volevo soltanto, come vedete c'è un sacco di gente qui che ti sta applaudendo e che ti stava aspettando, quindi il palco è tutto tuo, io mi tolgo e vai pure. Ti condivido, ok, sto condividendo, perfetto, togliamo qui, una cosa che vi dico, mentre ci sarà la sessione non guarderò Hopin, quindi poi magari eventuali domande le prendiamo alla fine, perché vedo il presenter, perché ho il mio schermo qui a sinistra e ho la telecamera davanti, quindi è un setup un po' particolare. La domanda la prendo tutta io, la raccolgo, poi alla fine ho fatto tutto io, tranquillo. Alcune, mi dispiace dirlo, hanno un po' perso la motivazione in questo periodo, quindi io sostengo molto questo tipo di eventi, anche per cercare di trasmettere il messaggio che si può ancora fare community, è un modo diverso di fare community e cercherò anche di affrontarlo più tardi, però insomma è importante dare questo messaggio. Allora, io voglio partire da un'immagine. Per me questa immagine è molto molto semplice, che è l'immagine di uno dei tanti coffee break, di uno dei tanti momenti di networking dei nostri eventi. Per me questa rappresenta quello che c'è di più importante, di più potente nelle nostre community, cioè la possibilità di dare tempi, di dare spazi alle persone delle nostre community, di esprimersi e in particolare di esprimere quello che è il nostro istinto forse più importante di esseri umani, che è quello di interagire con gli altri e anche di creare del valore da questa interazione. Ci sono, possiamo chiamarli degli aiutini, che fanno in modo che queste interazioni, che questi momenti siano ancora più efficaci, che funzionino meglio. Prima di tutto, e ne parlava molto bene Stefano prima, è importante che nessuno sia escluso, quindi c'è tutto un discorso legato all'inclusività e all'accessibilità. È fondamentale che tutte le persone in qualche modo siano a proprio agio, questo significa avere un evento inclusivo e accessibile. Ovviamente un'altra cosa fondamentale è la velocità di interazione che abbiamo nelle nostre community, cioè il fatto che le nostre community il più delle volte siano delle community flat, non abbiano una vera e propria gerarchia, non devi fare delle scalate sociali per raggiungere le persone, sono tutte lì, ci puoi andare a parlare. È un altro aspetto fondamentale, potentissimo, che consente di creare quelle che si chiamano le interazioni informali, e che poi danno vita a tutta un'altra serie di cose meravigliose di cui si potrebbe poi eventualmente parlare in altri talk. E poi ovviamente è fondamentale anche creare quelle interazioni non premeditate che avvengono ad esempio da quello che io chiamo l'ascolto passivo, cioè ad esempio sei al banco del caffè, tra l'altro un caffè che solitamente dall'estero ci invidiano molto, quando io parlo con i colleghi esteri fanno sempre i complimenti per i nostri catering, magari è uno degli aspetti che ci sta molto a cuore, ci gustiamo questo caffè e ascoltiamo senza volerlo una conversazione interessante e ci tuffiamo in questa conversazione, questo io lo chiamo ascolto passivo, cioè il nostro corpo per come funziona il nostro cervello reagisce a dei segnali, e quindi riusciamo a catturare degli input da fuori e a gestirli. Però quello che è il mio punto è che secondo me funziona tutto ancora meglio se le persone in qualche modo tutto questo lo fanno spontaneamente, lo fanno con naturalezza, lo fanno perché si trovano in una situazione di benessere, stanno bene, riescono a interagire, sono tutti a proprio agio. Che cosa vuol dire, che cosa intendo per fare cose spontaneamente, in maniera naturale? Significa questa slide. Avete letto, non ve l'ho dovuto chiedere, non ci avete dovuto pensare, non vi siete dovuti sforzare, il vostro cervello ha semplicemente fatto quello che succedeva in base al contesto. E la cosa più importante, non avendoci dovuto pensare, questo significa che andava tutto bene, adesso anche si usa dire non andrà tutto bene, sostanzialmente questo è il punto. Finché non ci devi pensare, le cose stanno andando bene, sei a tuo agio con la situazione. Se avessi messo dei caratteri incomprensibili, una frase in una lingua straniera, magari che non conosciamo, avessi messo qualcosa che non ha senso, il nostro cervello avrebbe portato questo fatto alla consapevolezza e ci saremo, diciamo, bloccati a pensarci. Quando siamo spontanei, quando siamo naturali, quando va tutto bene, abbiamo una situazione di questo tipo. Come leggere questa slide senza che nessuno ve lo debba chiedere? La leggete e basta. Ora, come possiamo portare questo alle nostre community? Come possiamo calarlo nel nostro contesto? Beh, abbiamo imparato a leggere perché questa era una skill in qualche modo allenabile, il nostro cervello può essere allenato a fare questo tipo di cose. Quindi potremmo anche allenare e allenarci noi, ma anche allenare le persone delle nostre community ad altri pattern, come ad esempio questo, che è un pattern che io ho imparato all'estero qualche anno fa. Quando si fa networking, le persone che formano un gruppetto, ok, che sta dialogando, il gruppo può lasciare quel buchino che vedete un po' nel mezzo, quindi un'apertura. Questa apertura è molto discreta, cioè non è che le persone stanno urlando ehi, unitevi a noi, hanno lasciato questa apertura discreta, hanno scritto qualcosa in questo tipo di caratteri, questi sono caratteri, diciamo, comunicativi, per modo di dire, dei caratteri dell'interazione umana, e le persone che passano attraverso questi gruppetti possono spontaneamente unirsi a queste persone che stanno dialogando e che si stanno offrendo in maniera inclusiva di accettare altre persone nel gruppo. Tutto questo ancora una volta funziona se questi comportamenti, se questi pattern, vengono fatti nostri, quindi se vengono creati automaticamente, sia delle persone che in questo momento fanno parte di questo gruppetto, ma anche dalle persone che devono in qualche modo accettare o meno questo invito di unirsi a loro. Tutti questi pattern, come community manager, li possiamo in qualche modo trasmettere e rendere sempre più naturali. Perché è importante che siano spontanei? Beh, perché come vi dicevo prima, quando le cose sono spontanee sta andando tutto bene, le persone sono ingaggiate, le persone hanno un ownership su questi comportamenti, li fanno propri, non c'è niente da spiegare, e quindi è possibile che le persone siano bene nella nostra community, è possibile che tornino, che rimangano e che magari portino anche delle altre persone alla community, parlino di noi. E fondamentalmente questo è quello che vogliamo, vogliamo sempre far star bene le persone e magari averne sempre di nuovo. Allora ho pensato, come si fa a trasmettere questi valori, come si fa in qualche modo a rispettare questa spontaneità, quindi sia a far esprimere le persone, ma anche eventualmente insegnare dei comportamenti che sono dei comportamenti positivi. Mi è venuto in mente, come diceva anche Alessio, come ho un po' raccontato nell'abstract, mi è venuto in mente questo paragone con la figura del giardiniere. Se ci pensiamo, il giardiniere è una persona che in qualche modo ha conosciuto, conosce processi della natura, che sono anch'essi processi assolutamente spontanei, che funzionano bene se vengono lasciati esprimersi, e è un conoscitore di questi processi, un conoscitore della botanica ad esempio. Non è detto che sia un conoscitore teorico, cioè potrebbe anche aver imparato sul campo, come fanno molti di noi. Io ad esempio ho imparato sul campo, non ho una preparazione sul mondo delle community, l'ho imparata in otto anni di esperienza extralavorativa, come vi dicevo all'inizio. Il giardiniere, come noi, come me, è un conoscitore di questi processi naturali, li rispetta, li favorisce in qualche modo, è una persona che riesce a far emergere le cose, riesce a facilitarle, è un orchestratore. Come agisce? E questo è importante, perché secondo me è molto simile a come dovremmo fare noi. Agisce un po' dietro le quinte. Il semino che inserisce sotto il terreno e poi innaffia, o anche tutte le altre attività che fa, sono attività dietro le quinte, sono attività che poi scompaiono, non si vedono più, o meglio, se ne vedono gli effetti, ma le attività a monte non si vedono più. Non lascia... Credo che c'è stato un piccolo problema per Marco, immagino voi... Dimmi. Ok, ci abbiamo perso... Ah, ok. Ho avuto dei problemi di disconnessione stamattina, quindi può darsi che siano tornati. Mi sentite? Sì, ci sei, ci sei, siamo rimasti ai sermino che viene... Ok, vado indietro di un... Vai pure. Riprendo qua, l'azione che viene fatta dal giardiniere è un'azione discreta, è un'azione che poi si trasformerà in qualcosa di totalmente diverso, quindi è un agire un po' dietro le quinte. Quello che poi è importante è il risultato finale della sua azione, del suo coltivare, che è appunto la bellezza del giardino. Ed è molto importante anche questo punto, secondo me. È importante che le persone poi, nel caso del giardino, si godano il giardino, nelle nostre community si godano la community. E io quindi ho identificato tre doti principali che possiamo condividere in qualche modo con la figura del giardiniere. La prima dote è una dote di mettersi al servizio della community e anche essere in grado, per il bene della community, di uscire di scena. Io so che siamo sempre carichissimi nel voler fare i talk, nel voler motivare le persone, nel voler influenzare positivamente la community. Sono tutte azioni assolutamente che io condivido. Ma c'è sempre bisogno di capire, di bilanciare con la necessità di farci da parte per il bene della community. Farci da parte significa, vi faccio un esempio molto concreto che mi ha toccato, mi sono trovato anch'io ovviamente ad organizzare dei meetup. Mi sono trovato a farlo però qualche anno dopo aver iniziato la mia attività community ed avevo iniziato con degli eventi un pochino grandi, nazionali, da circa 100 persone. Mi sono trovato quindi a fare degli eventi locali, quindi in una città di sera, per 15-20 persone. E sono partito facendo io delle sessioni. Questo qui un pochino ha fatto, non dico intimorire, però ha reso ancora più timide, timida una platea che non era abituata a condividere delle cose, a fare delle sessioni. E il primo errore che ho fatto è stato cercare di forzare la mano e dire se non condividete voi del materiale, se non condividete voi delle sessioni, i meetup non li possiamo più fare perché non posso fare soltanto io delle sessioni. Questo è stato un errore che vi consiglio di non fare. Quello che ho fatto allora è stato cambiare approccio. Ovviamente questo comportamento non ha portato a alcun risultato, anzi ha fatto anche scappare delle persone. Il risultato migliore l'ho avuto quando mi sono messo al servizio della mia community e ho detto ragazzi facciamo così, a chi va di fare delle sessioni? Vi aiuto io, cerco io di mettermi insieme a voi a fare delle sessioni, fare il co-speaker, fare il revisore del materiale, fare il trainer se serve. Questo ha portato dei risultati enormi perché le persone si sono sentite libere di esprimersi magari con un po' di aiuto, con un po' di guida ed è stato un risultato questo fondamentale. Quindi mettersi al servizio, uscire di scena. Se avessi continuato io a fare solo io i talk avrei avuto un risultato che non sarebbe stato poi quello di far esprimere la mia community quindi farla agire diciamo anche con naturalezza. Questa è un po' la prima dote che mi sento di condividere con i giardinieri. La seconda è quella dell'avere pazienza e del vigilare. C'è una frase famosa che dice la natura non va di fretta eppure nulla è lasciato incompiuto che è una frase un po' retorica però se ci pensate è così. Il giardiniere conosce i tempi. Se innaffia oggi domani il fiore non sboccia. Ci sono dei tempi da rispettare. Lo stesso vale per noi, delle community. Se oggi creo un evento che ha sicuramente una risonanza non è che la mia community può godere magari della stessa potenza interattiva di dieci anni. Ci sono dei tempi sicuramente da rispettare. E questo ci serve anche per creare magari le azioni successive da fare per il nostro giardino, per la nostra community. Ed è importante anche vigilare sulla nostra community. Si parla molto ovviamente di feedback. Quindi una delle cose più importanti secondo me è quella di raccogliere feedback. Una cosa che dico che per qualcuno potrebbe essere nuova è importante raccogliere feedback sempre. Non solo durante i meetup o gli eventi. È importante sondare continuamente il terreno delle nostre community. e anche far sapere come questo feedback viene utilizzato. Quindi è importante anche che ingaggiate le persone nel raccontarli anche in maniera informale. Quindi ad una cena, ad un meetup, durante la presentazione di un evento. Però fargli sapere come avete usato il loro feedback. Perché è molto molto importante che le persone sappiano anche che questo feedback che voi gli chiedete poi viene utilizzato effettivamente in qualche modo. E poi qui dico un'altra cosa che potrebbe essere forse banale e ne parlava anche un pochino Stefano prima sul discorso dell'accessibilità. Io qui mi accodo un po' sul discorso dell'inclusività anche che sono argomenti comunque molto correlati. Qui c'è una frase che mi piace dire che è una frase di un mio caro amico. Dice, per risolvere un problema devi sapere che esiste. Vedevo anche prima nelle domande che scorrevano durante la sessione di Stefano Mara chiedeva ma a me è capitato di creare degli eventi dove probabilmente ho escluso qualcuno a livello di accessibilità probabilmente l'ho fatto anch'io l'abbiamo fatto magari tutti e non me ne sono reso conto. Questo è all'ordine del giorno. Cioè, il problema purtroppo per risolverlo noi dobbiamo sapere che esiste. Ci sono problemi che non abbiamo neanche la percezione che esistano. Vi faccio un altro esempio che ho scoperto sempre qualche anno fa all'estero che riguarda il linguaggio. La parola guys in inglese dovrebbe, almeno per quello che mi hanno insegnato a scuola dovrebbe essere neutrale. Cioè, non dovrebbe avere un genere. Invece, in molti posti diciamo, in molti paesi il genere viene percepito come maschile. Quindi, andando a riferirti alle persone con guys stai escludendo automaticamente le persone che non sono di sesso maschile. Questo è capitato tra l'altro a un evento importante a cui ho partecipato qualche anno fa un evento del mio riferimento che è C++ davanti a mille persone uno speaker di fama mondiale si è scusato perché delle persone si sono sentite escluse dal suo modo di parlare del giorno prima e il giorno dopo è andato sul palco a scusarsi perché aveva usato la parola guys e aveva escluso qualcuno. Ora, questi problemi potrebbero non toccarvi direttamente. A me personalmente non mi toccano come persona perché a me se mi dici hi guys mi ci ritrovo. Ma noi dobbiamo rispettare tutti quelli che potrebbero essere in qualche modo toccati dal nostro modo di parlare ma anche da tutti gli altri comportamenti che possiamo non percepire. A quel punto sono nate delle community molto interessanti non so se esistono anche in altri ecosistemi ma sicuramente ci sarà qualcosa. Esistono delle meta community fatte apposta per risolvere e affrontare problemi di inclusività. Nel mondo del C++ che è questo linguaggio di programmazione che è un po' al mio ecosistema di riferimento c'è questa community che si chiama Include C++ che aiuta le altre community a trovare problemi di inclusività e in qualche modo anche a aiutare le persone a sentirsi sempre più incluse nell'ecosistema. Quindi è importante vigilare anche problemi che non si sa esistere. Quindi attenzione a volte la risposta giusta alla domanda potrebbe anche essere non so se sto soffrendo di questo problema come riesco a farmi aiutare. Questo è fondamentale per includere tutti quindi per far sì che tutti si sentano a proprio agio. Ultima capacità ultima skill ultima dose del giardiniere è la dose dell'adattamento magari c'è un parassita nel giardino c'è un meteo che cambia repentinamente insomma ci possono essere tutta una serie di problematiche a cui dobbiamo reagire. Ci sono problemi anche assolutamente inaspettati come ad esempio la pandemia che stiamo vivendo come riusciamo a gestire. Beh sicuramente ci stiamo organizzando con degli eventi online ci stiamo organizzando con tanti sistemi vi racconto proprio per farvi anche fare una risata questa slide che io ho cambiato forse quattro volte nelle ultime quattro settimane perché è andata di pari passo con i DPCM a partire da settembre avevamo ripreso a fare delle sessioni ovviamente online però con dei piccoli incontri ovviamente in sicurezza con le persone con dei gruppetti di persone delle mie community e delle piccole cene dei piccoli aperitivi ovviamente questo oggi è molto più complicato forse si riesce a fare per pranzo ma è un possibile un possibile spunto di adattamento che avevo anche provato ad iniziare a fare per la fase 3 per la cosiddetta fase 3 quindi il giardiniere diciamo deve un po' favorire il community manager deve un po' favorire tutte queste condizioni lo fa con delle azioni che sono dietro le quinte vi faccio vedere un altro esempio di un'azione dietro le quinte molto carina secondo me che ho vissuto qualche anno fa ho lavorato per circa nove anni alla Ferrari a Maranello a un certo punto nel 2015 ci siamo spostati nella nuova sede della gestione sportiva immaginatelo questo grande palazzone il cui piano diciamo operativo quello del cosiddetto ufficio tecnico ve lo faccio vedere dall'alto è un grande open space vi faccio vedere anche ecco è un grandissimo open space ci sono due giardinetti sopralevati e ci sono tanti reparti qui immaginate qui c'è tutto il reparto aerodinamico qua c'è tutto l'ufficio tecnico quindi telaisti qui ci sono motoristi qui ci sono l'ufficio pista controllisti noi eravamo qui il reparto delle simulazioni insomma un bel po' di gente e che cosa è successo hanno messo secondo me una bella mossa discreta carina che appunto favorisce la spontaneità hanno messo un'area caffè al centro ok una cosa semplice però faceva in modo che le persone arrivassero da vari reparti si contaminassero e interagissero come? spontaneamente quindi non ti sto dicendo devi assolutamente andare in quell'area caffè perché poi ce n'erano anche altre agli angoli ma c'era questa opportunità di incontrarsi qui informalmente con i propri tempi con le proprie necessità e quindi qui sono nate anche delle interazioni molto molto interessanti ultimo argomento di cui voglio raccontare proprio al volo online come stiamo andando con la spontaneità sento tanti io ho compreso dire online mi sta mancando molto qualcosa che cosa? la spontaneità cioè ci sta mancando molto questo senso di naturalezza che proviamo quando andiamo ad eventi fisici perché? prima di tutto perché si sta provando a emulare la spontaneità con un tiro di dadi molto spesso OPIN ma anche REMO che adesso vi faccio vedere proprio velocemente sono sistemi che stanno provando ad emulare l'incontro fortuito con le persone quindi quello non premeditato con un tiro di dadi ti stanno assegnando ad esempio con lo speed date un peer virtuale randomico e con REMO che è un'altra piattaforma che consente di fare eventi integrati tutto in un'unica pagina ma anche con dei tavoli virtuali a cui fondamentalmente ti aggiungi randomicamente e ovviamente non è la stessa cosa non è la stessa cosa perché ci manca la naturalezza cioè abbiamo fin troppo controllo la spontaneità come la slide leggi qui che vi facevo vedere è arrivata secca subito dovevate reagire in quel momento qui abbiamo fin troppo controllo possiamo andare in giro per i tavoli vedere chi c'è spegnere webcam e microfono però secondo me il punto in realtà secondo me il punto è un altro sono due cose diverse online offline cose diverse non ha senso ne parlavamo anche un po' questi giorni non ha senso confrontarli hanno pattern diversi e siamo anche i primi siamo un po' i pionieri di questi nuovi eventi noi ne abbiamo scelta dobbiamo fare eventi online e basta in questo momento siamo i pionieri prendiamoci questa responsabilità come community manager anche di insegnare nuovi pattern insegnare pro e contro di entrambe le cose e soprattutto accompagnare le nostre community ad imparare e far proprio un nuovo tipo di spontaneità grazie a voi mi ha preso dovrei essere stato nei tempi è stata la grande ma mi hai mi hai preso lo spruvvista comunque applauso anche per te grazie a voi la folla invisibilio che stai vedendo sullo schermo mi sono perso un po' le ovviamente le chat purtroppo perché avevo appunto le slide davanti tranquillo tranquillo ho apprezzato tantissimo persone che hanno apprezzato tantissimo il tema del linguaggio inclusivo la metafora della spontaneità con le giardiniere quindi a me è piaciuto molto il fatto di questa cosa della caffetteria nel centro è un'idea un po' da Steve Jobs sai che Steve Jobs quando ha creato la Pixar ha messo il posto nel centro in questo mega mega palazzo perché tutti dovevano andare a mangiare lì ma è stata una cosa carina tra l'altro c'era anche una macchina di Formula 1 proprio quella vera dell'anno prima l'avano messa insomma era messa lì quindi era carino anche no perché uno poteva anche andare da reparti diversi a interagire con la macchina quindi era anche carina questa cosa qua allora domanda di Manuel condivido mi ci trovo molto la tua metodologia ho creato un network di community sono molto simili insomma mia palestra personale per i community management questa metodologia in ottica aziendale come la imposteresti tenendo conto che appunto in azienda ci sono regole precise e molta meno libertà dove spesso l'obiettivo aziendale è vendere un prodotto o un servizio cioè come per la tua esperienza ma allora guarda assolutamente allora intanto premetto che ho visto ci sono anche dei bei talk sulle community aziendali e secondo me sono inerenti allora una cosa che dico è questa allora intanto una cosa che non ho detto mi sono dimenticato in azienda un primo approccio di spontaneità è il quello che possiamo chiamare learning collaborativo l'apprendimento collaborativo cioè un collega se sei in un open space il collega si può girare chiederti qualcosa questo a pro e contro perché ovviamente ci si può interrompere troppo quindi bisogna avere un bilancio secondo me in azienda ci sono molte aziende anche l'ho visto fare hanno ovviamente degli spazi dei calendari condivisi per condividere qualcosa quindi avere un appuntamento ricorrente che può essere boccato può essere prenotato dalle persone per iniziare un dialogo quindi per iniziare a condividere qualcosa e creare un po' un hype magari attorno a determinati temi dipende ovviamente il tipo di azienda dipende quanto è grande qual è il focus dell'azienda però una cosa che ho visto un po' funzionare è cercare di creare dei gruppi interni magari con degli spazi prenotabili quindi ci sono degli spazi fissi che l'azienda mette a disposizione sia come tempi che come proprio spazi fisici magari oggi è un po' diverso potrebbero essere spazi virtuali dove chiunque può prenotarsi e condividere qualcosa una sorta di palco a disposizione di tutti questa è una cosa che ho visto poi ovviamente c'è un po' un discorso culturale cioè il management in qualche modo deve essere un pochino più morbido nell'accettare anche delle situazioni che non aveva previsto quindi ad esempio tu sei la macchinetta del caffè classica conversazione da macchinetta del caffè con dei reparti diversi o anche con comunque dei team che sono non esattamente il tuo quindi dei team un pochino diverso si crea un'idea si crea un margine per creare una collaborazione il management dovrebbe essere un minimo illuminato per farci che questa collaborazione possa almeno essere sondata per vedere se può portare a qualcosa quindi secondo me ci vuole anche un minimo di cambio culturale se vuoi a meno che l'azienda appunto non è già in quella direzione la cosa più vicina chiede Stella o una coffee station online eh allora io ho visto allora io ho visto questa cosa fare all'estero ultimamente parlando con dei ragazzi ragazze insomma di altre community però devi avere gli spazi allora avere una telecamera esterna in casa di tutte le persone di tutti quelli che possono farlo che punta una zona della casa come il salone per esempio io sto lavorando dalla camera da letto ad esempio se hai il salone disponibile puoi puntare una telecamera lì e quando vuoi tu passi davanti questa telecamera viene in qualche modo streammata a tutti quegli altri del team e in qualche modo è una sorta di zona franca virtuale per vedersi se capiti lì mentre c'è anche un altro che sta guardando questa telecamera si crea una sorta di interazione spontanea per così dire questo l'ho sentito fare da degli amici che sono che sono all'estero di altre community nelle loro aziende quindi non l'ho fatto personalmente quindi non saprei dirti poi effettivamente se funziona questo no ultimissima domanda e poi dobbiamo chiudere che sta quasi partendo il prossimo talk chiede Marvi a proposito di agevolare la spontaneità in azienda cosa ne pensi di eventi team building viaggi aziendali che secondo lei sono alcune volte un po' una forzatura e non non c'è un vero desiderio di aggregarsi sono spontanei secondo te ma guarda io ti dico viaggi aziendali ho visto nella mia esperienza ho visto farli in determinati eventi dell'anno ad esempio come nel caso di Ferrari c'erano degli eventi particolari come che ne so delle corse particolari organizzate di campionati per i clienti e la Ferrari organizzava questi pullman per andare a vedere gratuitamente questi questi eventi quindi ovviamente lì lì c'era un trucco che era il filo conduttore quindi se tu riesci a giocare sulla passione delle persone puoi usare la passione diciamo come trampolino per far incontrare le persone secondo me se organizzi dei viaggi così senza un centro senza un una sorta di motivazione dietro potresti effettivamente perderti qualcuno perché magari come dice Marvi sembrano una forzatura quindi dovresti sempre secondo me giocare con quel lavoro diciamo di regia dietro le quinte nel dire c'è che ne so un evento particolare che potrebbe essere anche una festività o insomma può essere può essere qualsiasi cosa potrebbe essere una ricorrenza aziendale e poi anche riuscire magari a supportare in azienda qualcosa di di interno ad esempio c'è uno user group interno che sta condividendo qualcosa pagargli un coffee break in questo modo le persone riescono anche a capire che c'è un interesse dell'azienda dietro quindi magari alcune persone si sentono più valorizzate come dire grazie Marco grazie mille grazie a tutti